Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo video di Gembe. Siamo qui oggi per parlare dell'evento Apple che si terrà a settembre, o degli eventi Apple, perché sì, potrebbero essere più di uno. Potrebbero essere addirittura tre, nonostante io creda che siano due. Però, adesso con calma ci arriviamo. Seguite il video fino alla fine per sapere tutte le novità che ci saranno in questi eventi barra evento barra eventi tre. Iscrivetevi per andare a vedere altri video del genere, ma comunque andate a vedere nel canale perché ce ne sono veramente un sacco. Io vi consiglio di andare a vederli e poi di iscrivervi, oppure iscrivetevi sulla fiducia e poi andate a vederli. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con questo video. Se vi ricordate l'anno scorso gli iPhone sono usciti con un pochino di ritardo, anche divisi in base al modello. Quest'anno invece teoricamente non dovrebbe essere così. Potrebbe essere comunque divisa per modelli, ma non in ritardo esattamente come l'anno scorso. Perché l'anno scorso comunque si sono trovati ad affrontare una sorta di emergenza inspiegabile, quindi hanno dovuto rimandare di un mesetto. Quest'anno invece hanno preso le cose con tempo, quindi sono riusciti a fare tutto in modo tale da far uscire gli iPhone nel mese corretto. In questo evento di settembre cosa dobbiamo aspettarci? Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che l'evento di settembre, come ho detto anche nel video dell'iPhone 13, che vi lascio qui in alto a destra se vi siete persi per andare a rivedervelo, nel quale elenco tutte le novità di iPhone 13 che potranno esserci appunto nell'iPhone successivo di Apple, partendo dal fatto che l'iPhone potrebbe anche non chiamarsi i 13, ma chiamarsi i 12S, perché le modifiche e le novità non sono effettivamente così tante da poter magari cambiare il nome da 12 a 13, ma passare a un 12S. Nonostante, secondo me, come dico anche in quel video, è poco probabile, perché tutti i modelli di iPhone dal X in poi, quindi dall'X in poi, hanno sempre mantenuto un nome costante, quindi 11, 12, adesso ci si aspetta il 13, non il 12S. Però staremo a vedere, chi lo sa. I modelli di iPhone 13 o 12S che verranno presentati sono gli stessi dall'anno scorso, quindi il mini, il normale, il pro e il pro max. Questi nuovi iPhone avranno una camera migliorata, un display più avanzato, delle performance aumentate, la batteria migliorata e altri piccolissimi accorgimenti. Sarà presentato anche il nuovissimo Apple Watch Serie 7, che quest'anno non vedrà affiancato a lui un Apple Watch SE, perché l'S l'han presentato l'anno scorso, io infatti l'ho comprato, consigliatissimo. Secondo me verrà la pena acquistarlo quest'anno? Non lo so. Dovrò andare a considerare l'Apple Watch Serie 7 nel momento in cui uscirà, se verrà la pena acquistare più quello, o il Serie 6 se rimarrà ancora in vendita, o il Serie 5, o comunque l'SE. Però aspettatevi un video su questo canale quando uscirà il Serie 7, e non so se farò una comparison perché non credo di comprare il Serie 7, ma comunque sulla carta potrò in qualche modo, visto che possiedo l'Apple Watch SE, e del quale ho fatto anche dei video, quindi vi ricordo di andare a vedere, ve li lascio qua in alto a destra, farò una sorta di comparison, almeno teorica, per quanto riguarda questi due dispositivi, quindi il Serie 7 e l'SE, quale di due acquistare nel caso. Ma quali saranno i cambiamenti fondamentali dell'Apple Watch Serie 7 quest'anno? Innanzitutto c'è un possibile redesign, avrà dei bordi più piccoli, sarà appiattito, avrà dei miglioramenti sotto il punto di vista della salute, e quindi come l'anno scorso abbiamo avuto la lettura dell'ossigenazione nel sangue, quest'anno avremo degli altri miglioramenti o delle altre novità. Inoltre avrà un interno rinforzato al fine di proteggere meglio dagli urti, cosa molto utile perché un dispositivo così piccolo potrebbe anche risultare molto fragile. Personalmente io non lo trovo molto fragile perché l'ho sbattuto qua e là, e nonostante sia il modello più economico, ha subito molti urti e non si è mai fatto male, mettiamola così. Però il fatto che comunque rinforzino soprattutto i componenti interni, in modo tale che non vengano danneggiati per poi doverli magari riparare in futuro, e per ripararli bisogna andare comunque in un centro Apple o in centri magari meno autorizzati, oppure comunque autorizzati ma meno ufficiali. In questo modo riusciranno anche quindi ad evitare certi rischi, almeno sulla carta. Presenteranno anche le Airpods di terza generazione. Questo è un prodotto che a me interessa veramente un sacco, perché ho le Airpods di prima generazione e sicuramente le acquisterò. Appena escono io le acquisto, quindi iscrivetevi al canale se volete vedere una video recensione su queste Airpods, magari paragonate anche a quelle precedenti. Ho fatto un video sulle Airpods che vi lascio anche lui qui in alto a destra, se volete andarvelo a vedere. Le novità per quanto riguardano le Airpods di terza generazione saranno un design più in linea con il modello Pro e un redesign della Cover Wireless, che migliorerà anche riguardo la connettività. Si dice che queste cuffie verranno lanciate insieme all'iPhone 13, quindi in concomitanza dello smartphone. Ciò vuol dire che non appena esce il dispositivo, quindi teoricamente intorno a ottobre, più o meno dovrebbero uscire anche queste Airpods. Potrebbero anche slittare al secondo evento di cui vi parlavo all'inizio, oppure essere presentate semplicemente con una press release, quindi trovarcele praticamente direttamente sul sito da acquistare o in negozio. Come dicevo, quindi si dice che Apple potrebbe finire qui con tutti questi prodotti per quest'anno, ma esiste anche la possibilità che facciano un secondo evento, oppure che accorpino quest'evento insieme al secondo evento che sto per annunciarvi, ma è molto probabile che ce ne siano almeno due. Il secondo evento si concentrerà sui Mac, in particolare sul MacBook Pro da 14 e da 16 pollici. Per quale motivo non fanno tutto insieme? Secondo me per incentivare le persone a comprare l'iPhone, perché ovviamente il prodotto principale del primo evento è l'iPhone. Magari metterlo insieme al Mac potrebbe in qualche modo confondere le persone o portarle ad acquistare uno o l'altro. Mentre dividendo gli eventi una persona dice ok, no, acquisto sia uno che l'altro, ma non me ne rendo neanche conto quasi mentalmente. Questo MacBook Pro da 14 e da 16 pollici avrà quindi delle novità. Quali sono queste novità? Sono queste. Anche lui avrà un radicale redesign, non avrà più la touch bar, avrà un nuovo display basato sulla tecnologia Mini LED, e un nuovo chip Silicon, l'M2, il nuovo processore di Apple che è stato inserito all'interno dei Mac dell'anno scorso, il quale ha avuto un grande successo, e quindi quest'anno lo ripropongono giustamente nella versione nuova, aggiornata, più potente ancora. Questi MacBook Pro sono previsti per la fine di ottobre e l'inizio di novembre, per questo motivo si dice che possano essere presentati in un secondo evento, oltre al fatto che potrebbero distogliere le attenzioni dagli iPhone, come dicevo prima. Le possibili date di questo evento, quindi del secondo evento, sono il 19 ottobre, il 26 ottobre o il 9 novembre. Apple potrebbe anche rilasciare questo Mac, esattamente come dicevo per le Airpods, come press release, ma è molto meno probabile, perché ci sono anche persone che ci lavorano giustamente con il Mac, quindi avere un evento apposito sarebbe l'ideale. A questo evento per il Mac potrebbero accorparci anche l'iPad, perché si dice anche che dovrebbero creare un nuovo iPad, in versione mini, il solito iPad mini, anche lui con un ulteriore redesign e con dei miglioramenti incredibili. Parlavo all'inizio del video di un terzo evento, perché appunto questo iPad potrebbe essere presentato all'interno di un terzo evento, ma mi sembra molto molto improbabile che creino un evento apposta per l'iPad, essendo soltanto uno l'iPad che vogliono annunciare, così almeno si dice dai rumors. Qualora dovessero presentare questo nuovo iPad mini, sicuramente io personalmente lo terrò in considerazione, quindi ancora vi ricordo di iscrivervi al canale perché magari potrei acquistarlo, e farvici un video, così che voi potete anche farvi voi un'idea per decidere se acquistarlo o meno anche voi. Il video quindi è finito qui, era un recap semplice di quello che potrebbe essere l'evento Apple di settembre, e l'evento Apple ipoteticamente di ottobre. Ovviamente per avere la certezza di quello che ho detto, bisognerà aspettare l'evento stesso, quindi vedremo più in là un po' come si evolverà la situazione. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale, di commentare qua sotto con cosa ne pensate di questi eventi, se acquisterete qualcosa quest'anno fatemelo sapere anche allora nei commenti, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo con qualcuno che magari è interessato a sapere di cosa si parlerà nel prossimo evento Apple, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!